Giustizia, noi vogliamo investigazione libera, imparziale, dalle Nazioni unite. Unite, 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 noi non vogliamo investigazioni, da human rights, delle zoppie, che non può investigare i propri chiedini. Fermiamo, fermiamo, fermiamo questa ingiustizia del popolo del Tegraim. Tegraim merita giustizia, investigazione, indefendente, libera e parziale per il Tegraim. Libero accesso ai media internazionali, libero accesso agli aiuti umanitari. Humanitari, giustizia, per il popolo del Tegraim. Giustizia, giustizia, alle vittime, dello studio, giustizia, per il popolo del Tegraim. Tegraim, libero! Tegraim, libero! Applausi Grazie 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 Grazie